C'è il diavolo, c'è l'inferno, non è il frutto dell'immaginazione, ma una realtà davvero esistente. È la Madonna a parlarne. È proprio Maria a testimoniarlo e lo fa in uno dei luoghi devozionali più simbolici, Fatima. La dimora di Satana viene evocata nel 1917 durante un'apparizione a Lucia, Francesco e Giacinta, i tre pastorelli. L'inferno è un orizzonte possibile, una condizione che attende i dannati al barco e Maria lo mostra in tutta la sua concretezza e consistenza, nella sua atroce verità, fino a terrorizzare la più piccola dei tre pastorelli, Giacinta. Un mare di fuoco dove si trovano le anime indemoniate. Questa è la pena degli spiriti dannati, quella di vivere in un luogo ardente e tetro, sopportare un caldo asfissiante, bruciare in eterno, senza poter aver sollievo. Dall'apparizione, raccontano i pastorelli, emergono anche suoni. Nella casa del diavolo si sentono grida di dolore per la disperazione. Quelle urla confuse, con lo stridore di denti di cui aveva parlato il Nazareno, si sprigionano da un incendio sconfinato, eterno e sempre presente. È terrificante vedere come dalle fiamme si sprigionano i demoni con forme di animali spaventosi e sconosciuti, mostri veri e propri mai visti sulla terra. Ecco cosa scrive Suor Lucia di quella visione. La Madonna ci mostrò un gran mare di fuoco che sembrava stare sottoterra. Immersi in quel fuoco i demoni e le anime, come se fossero braci trasparenti e nere o bronzee, con forma umana, che fluttuavano nell'incendio, portate dalle fiamme che uscivano da loro stesse insieme a nuvole di fumo, cadendo da tutte le parti, simili al cadere delle scintille nei grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra gride e gemiti di dolore e disperazione che mettevano orrore e facevano tremare dalla paura. I demoni si riconoscevano dalle forme orribili e ributtanti di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e neri. Questa visione durò un momento. Le penitenze e le mortificazioni dell'inferno fanno tremare di paura i tre pastorelli, finché la Madonna non parla e spiega loro che si può evitare quella realtà solo se si invoca in preghiera il suo cuore immacolato. Ecco perché i tre bambini, conclusa la rivelazione mariana, dedicano la loro vita alla preghiera e alla penitenza per l'espiazione dei peccati degli uomini, perché nessuno andasse all'inferno e soffrisse eternamente quelle pene. La visione terribile dell'inferno, gente che brucia viva come legni carbonizzati in mezzo al fuoco, prende la forma di un avvertimento mariano. L'uomo può salvarsi, può cercare il perdono, può evitare che la morte entri nel suo cuore e sottrarsi dunque alla dannazione. La stessa esortazione proviene da un altro santuario mariano, quello di Lourdes. Anche qui si parla dell'inferno. Maria, in apparizione a Bernadette, ricorda che è proprio l'amare il mare e rifiutare la misericordia divina, a spingere le anime nell'eternità del peccato, ma lei, la Madonna, a Satana gli schiaccia il capo.